Musica Salve a tutti ragazzi, io sono dei Keiokide Bentornati nuovamente qua sul mio canale Siamo sempre qua su Blasphemous Continuiamo il gioco da dove ci siamo lasciati la scorsa volta Dio mio se mi sono spaccato La gola Salutarvi così Sì, sto registrando di seguito ma Non è che mi sono cambiato maglia Ho staccato, ho fatto le mie cose E sono qua adesso Allora qua avevo visto che c'era Il miasma tossico Anche se questi forse conviene ucciderli un po' così Oddio Questi sono nuovi Ma danneggiano tutti Cazzo se sono tosto Oh Madonna Vabbè fortuna non mi fa niente La cosa del Del polmone d'acciaio Vaffanculo Oh grande però Ha ferito Bellissimo Ci dimmi tutti Spettacolo Salve Quanto male ti faccio adesso Ma si è potenziato Ok Ehm Va bene vai Occhio D'ambra Allora anche qua c'è un'altra sezione Grano accuratamente scolpito nella forma Ok non so cosa sia successo Mi è andato nel desktop Automaticamente Spero stia continuando a registrare Spero Comunque sì Allora grano accuratamente scolpito nella forma di un bulbo Oculare Che sembra risplendere al buio Ok Un albero sacro fu colpito da un fulmine Senza subire danni La sua resina intrappolò il fulmine Così rimasto nel cuore d'ambra Dona un grande Dona una grande protezione dagli attacchi elettrici Bellissima Questo è stato il primo albero congelato Il primo davanti al quale ci siamo prostrati tutti a pregare Il primo in cui si vedeva un volto Pio e doloroso Tra le deformazioni del suo pallido tronco ghiacciato Ma è dove avevamo Dove c'era Deograsias Quello là comunque vestito di verde con il cappuccio Che ammirava l'albero dove c'è stato il primo Miracolo può essere Un giorno pianse dalle cavità che plasmavano i suoi occhi Pianse linfa così dorata e brillante Quell'occhio d'ambra E l'unica Perché comunque quell'albero aveva Della cosa intorno un po' giallastra come questa Secondo me ci sta Che figata Insomma stiamo trovando tante cose contro l'elettricità Non è che c'è qualcosa qua No ok dai Eeeh va bene Ok allora dai qua salviamo Eeeh allora sopra si tornava indietro Quindi a sto punto direi di proseguire di qua Poi non so se devo continuare a colpire Eeeh Questo E gli altri due confessori Onestamente non lo so Sempre se sta continuando a registrare Dopo il giochetto che mi ha fatto Che mi ha tornato sul desktop Quindi vabbè Vediamo un po' di qua che c'è Oh Yes Minchia 1850 E' un botto Grande Eh bisogna sempre controllare pareti Ok questi occhio eh Ah giusto tanto Devo stare solo abbassato E vaffanculo Fottuti Fantasmi Bellissimo A casaccio ma Maledetta Abbassati Grazie Scendiamo giù ancora Qua a destra Eeeh Ah occhio perché c'era l'onda d'urto Di ste cose Ah ce n'è anche un altro sotto Yes Ok questo non mi danneggiava Se lo toccavo Quindi Meglio Vediamo un po' di qua che c'è Uh Grazie Donald Trump Grande 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 Limite massimo di salute È stato aumentato Perfetto Perfetto Salute in più Non guasta mai Andiamo un po' di qua Quanto forte l'audio Certe cose Perfetto Eeeh Scendiamo giù Piano Che culo Oh e beh certo Se vado così È normale che mi piglia Però Qua c'è qualcos'altro No? Ok allora possiamo scendere giù Ciao bello Dai Ma che palle Com'è che prima l'avevo schivato? Au Dritto in testa Ok vediamo un po' di qua Due strade Destra e sinistra Destra e sinistra Boh Vediamo intanto se qua sotto c'è qualcos'altro No ok non penso Va bene E quindi Leggiamo Dei libri Un libro di anatomia aperto Nella pagina è raffigurato un femore Tibia Una rotula E quindi Eppure ce le ho Dove sono? Tibia Femore Aspetta un attimo Femore ce l'ho Tibia Rotula Femore e tibia Rotula Sì Quindi mi manca la rotula Sì mi manca La rotula Tutti gli altri li ho Sono riuscito A trovarli Casualmente Ok Intanto mi faccio un po' di fervore Perché a quanto pare Ah di qua si prosegue No minchia Questi però fanno male Parecchio Qua c'è qualcosa Ah ci sono i po' di fervore Ah ci sono i po' di fervore Pensavo facessero tanta elettricità Invece non Eh vabbè però se mi colpiscono Ah però si colpiscono A Vicenza Grandi Via Via E là il bastardo Figlio di mula Vabbè quello lo posso colpire anche così Cazzo di poco Mi si è chiusa Basta Ah no Ok ok Qua non posso Allora aspetta Facciamo così Vanno via insieme Ah allora aspetta Io vado Ah qua mi curo un attimo Perché Capiscine uno Per colpirne tutti Bravissimo Adesso Prendo questa di qua In teoria Dovrei riuscire a salire Sì Ha senso Ho avuto senso Bastardo Ok 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 Bene 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 Vediamo un po' di qua Lorquiana Una preghiera Che invoca Una raffica di fulmine ardenti Dall'essenza stessa Del miracolo Trafiggendo qualsiasi nemico Osi affrontare Il mea culpa In che senso? Siamo pietre di questa terra Germogli di queste piante Siamo in processione Uniti E ti imploriamo Con fervore O miracolo flagellante Liberci Da queste fiamme Ok Cosa fa? Ah mi serve più fervore Madonna Madonna L'onda energetica No vabbè Taranto a tua sorella Ci sta sempre Comunque Direi che Per ora è quella Che mi serve di più In assoluto Che spettacolo Che spettacolo Però c'era anche una strada sopra E quindi basta che faccio così Penso easy Ok si Ci sta Eh io comunque penso di toglierle il pollice Cioè non mi serve veramente a niente Non mi serve proprio a niente Dono una grande protezione delle attacche elettrici Secondo me anche ci può stare ma Provo a mettere questa Eh Proteggi il portatore da Dai danni di attacchi diretti Quindi penso corpo a corpo Che secondo me sono quelli che bene o male adesso ci falciano un po' di più Quello Falange Non è la rotula però Di Aral Karim L'archivista Può essere questo qua che sta sbattendo sul muro Però è vivo Cioè alla sagoma di come quelli che Che ascoltiamo che non parlano più perché sono morti Meno male è quello il senso anche Che sono morti quindi Beh intanto qua mi vado a rimettere le tre lingue nodose Fammi leggere la descrizione della Della cosa che ho preso Eh Aral Karim Lavorava come archivista alla biblioteca delle parole bandite Il suo spiccato interesse per le scritture di custodia prima della comparsa del ritorto Gli costò l'esilio Oh Ok Vediamo un po' se la cosa che ho di non farmi fare danni Beh no Direi che non funziona Perca puttana Non funziona per niente Andiamo a destra Ah ok qua torniamo indietro Eh non saprei Uh che culo No Goccia di inchiostro coagulato Minchia se mi fanno male Cazzo Vediamo un po' cos'è Ogni esitazione dello scriba era una nuova macchia sul suo scrittoio Anche le parole non scritte Censurati prima di prendere forma sulla carta erano potenti Questo ammasso di inchiostro graffiato dall'afflizione aumenta la potenza delle preghiere Questo mi piace molto di più Anche se quella del Allora direi di toglierci Un attimino Questa che tanto non mi serve a niente Ci mettiamo questa L'altra che avevo Questa cos'è Aumenta il fervore generato con gli attacchi Ah no Questa è fondamentale direi Aumenta Tempra il cuore aumentando la difesa del portatore Questa ci sta Non ho più vita Di nuovo Non è che c'è qualcosa di segreto No ok Vabbè Comunque ho fatto bene a buttarmi da lì Involontariamente ma Ok niente Eppure non so cosa fare in quella stanza dove diceva della rotula Quindi non saprei 25 su 38 Ci siamo quasi eh Qua Qua mi sembrava sempre una cosa nascosta Vai un giti d'olio Ok Ok Niente Boh dai andiamo via È giusta la strada per ora Sì Ci sta Le tele dormienti Salvataggio anche Questo Ma è un nemico Ma è una statua Questo quadro Ma pensa No che figata No è bellissimo Ma questi non li ammazzo No vabbè è bellissimo Taccami Uh sul quadro Che spettacolo Madonna Ma posso parlarti Sì col cazzo Ti posso parlarti Togliti va Ma si sta sgretolando Sì ok Si è sgretolato Ma che meraviglia Però io volevo andare Magari le I vari oggetti Che ho preso Anche adesso Forse là c'entra qualcosa Con la rotula Non lo so Quindi devo avere tre oggetti Per interagire su quella stanza Torno un attimo indietro Vediamo Ma allora Non c'era niente In verità in quella stanza Quindi direi di Continuare per la strada Ok dai Vediamo qua a destra Che cosa c'è Che spettacolo Questi quadri Comunque Si va a destra E si scende giù No io direi di Andare a destra Vediamo Uh addirittura Aspetta Vediamo un po' giù Pensavo fosse una zona vuota No comunque Andiamo giù Ma Se vabbè Poi ci Ci leggiamo un attimo Nel corpo Bellissimo Non può essere Avrei giurato Che la candela dipinta In quel quadro Fosse accesa E che illuminasse La stanza attorno Sto forse uscendo di senno Eh mi sa di sì O forse no Dato che i quadri Si muovono Poi quale stanza attorno Questa a destra O a sinistra Vabbè Comunque devo prendere Quell'oggetto Posso di andare Cioè se faccio così Giù è X No Bella Aglio Fuligginoso Vabbè Quello lo posso dare sempre Ai malati Che sono ad albero Penso io Eh Questa Non ne ricordavo tanto La cosa della maschera Dov'è che l'avessi presa Forse nella boss fight Con il prete Vabbè Comunque un bulbo scuro Ricoperto di una polvere Nerastra Si pensa che Trovarlo sia di buon auspicio Dato che cresce solo Come primo frutto In terreni bruciati Aggiunto a una tisana In grado di placare Molti dolori Anche se solo in pochi Hanno il coraggio Di provarla E beh Direi Eh Cosa dovremmo fare noi Un gruppo di curatori Profani e senza pretese Che ignora La volontà Imprecisabile Del miracolo Pregare per il perdono Cosa dovremmo sacrificare Per far si Che le nostre preghiere Vengano ascoltate Quel giovane Si trovava Alla merce del miracolo Così come noi altri Insieme a lui Che belle le descrizioni Sono veramente qualcosa di Bellissimo Di questo gioco Questo piccolo Capolavoro E quindi dobbiamo Illuminare la stanza Non so dove Si prosegue Penso a destra Quindi intanto Vado a sinistra Sperando che sia La zona sbagliata Vabbè Se scivolo Ciao 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 Sì Vabbè Fa un culo Vai Bellissimo Eccolo lì La sedia Quella di Futurama Con il robot Come detto Altro cadavere Ho paura Il piccolo Ha smesso di piangere Non appena L'abbiamo messo In braccio A quella donna Di Vimini Come se fosse Sua madre A volte Non ne riesco A fare a meno Di pensare Che in quel Vimini Ci sia qualcosa Di vivo A volte Nell'oscurità Sembra che Culli l'infante Ok Probabilmente qua Il venditore Come sempre Prezzi esorbitanti No Vale ben di più Di quelli che Chiedi in cambio Se vaffanculo Vabbè 4000 Nodo di Vimini Grano intrecciato A spirale Ricoperto da un leggero Strato di vernice Che l'ha protetto Dall'usura del tempo Questi fili Sono stati Lavorati Dalle mani Di una madre Che li ha Benedetti La loro influenza Dona protezione Dai danni Tossici Beh in verità Siamo anche immuni Dalla tossicità Comunque dalla nebbia Però dai danni tossici Chi sono Che ci fa i danni tossici Per te I drogati Ma Vabbè Intanto ce lo compriamo Ci leggiamo la descrizione Questa è una boccetta Biliare Può essere È una chiave Intanto ci leggiamo La descrizione Mentre veniva Portata All'errogo Gli inquisitori Le strapparono Il figlio Dalle braccia Lei urlò Implorando Che il bambino Non la vedesse ardere Il bimbo La fissava da lontano In un pianto Senza fine E venne bendato La benda Presto Si inzuppò Di lacrime Attorno al fuoco C'erano delle persone Che volevano Assistere All'esecuzione Urlavano Chiamandola Strega Ed eretica Quando le fiamme Si iniziarono Ad avviluppare Ad avviluppare La legna Avviluppare Non l'ho Non l'ho mai letto Da nessuna parte La donna chiese A un'anima Pia Di costruire Una figura Di vimini Simile a lei E di sistemarvi Il bambino Affinché non sentisse La sua mancanza E così accadde Quando completarono Il fantoccio Gli posero il bambino In lacrime In braccio E l'orfano Smise subito Di piangere Il miracolo Si dimostra ancora Una volta Misericordioso Che bello Che bello Senza parole Una bellissima Descrizione Sì vabbè Questa tanto Ci vuole sempre Fottere Nel senso Di soldi Non 9000 No vabbè Io compro tutto Per completismo Però Vabbè Vabbè Sì Tutto 999 Dai Cazzano Lì Una chiave Una chiave Maestra Forgiata dall'acciaio Il calore Emanato dalla spada Che brandiva L'inquisitore Generale Annunciava il suo arrivo Persino attraverso Le pareti più gelide Chiave Dell'inquisitore Eh non ho Va bene Stronza Eh sì dai Mi mancano 9000 No 900 lacrime Ehm Mi manca La zona Di Di destra Però Spero sia Una zona vuota Questa Vediamo Sì Questa è sempre più complesso Altro che zona vuota Che cazzo Stiamo andando Lì qua Bastati Vabbè Intanto se sto giù Non mi dovrebbe colpire Appunto Però qua sì E lo sapevo io E lo sapevo io FAN Ah però questo Era spawnato adesso Bastardo Guarda che brutto Vai con giù Va bene Va bene Va bene Ok dai Così posso anche Prendermi L'ultimo oggetto Che era quella chiave Tra l'altro Non so neanche io Dove usarla Se posso offrirla Alla donna Che si picchia No vabbè Questa chiave no Accidentemente sbloccato Mercato delle pulci Oddio Ho fatto una doccia Mercato delle pulci Obiettivo Comunque Accidentemente sbloccato Quindi ti ho comprato tutto Eh vabbè Ti ho Ho speso il mondo Signora Leggiamo E la madonna Che descrizione Luz divina Si alzò a fatica Dalla sedia Mentre tutti i presenti La osservavano attentamente Si rivolse agli inquisitori Dicendo Le apparizioni sono una verità Concessa ai miei occhi Da nostro signore Quale altro motivo Potrebbe esserci dietro Questo talento miracoloso Il mio unico peccato È stato ignorare L'importanza Di un dono Tanto prezioso L'inquisitore Seduto al centro E rispose Quale altro gesto Sarebbe più pio Che utilizzare La tua grazia Beneficio della chiesa Che è santa E dotta Quindi L'inquisitore Si alzò dal trono E sollevando Un vassoio d'argento Decorato con Dovizia Disse Possano i tuoi occhi Graziati Riposare qui Da questo momento in poi Ed essere custoditi In una cappella Senza finestre Così Ha deciso La nostra Santa madre chiesa Madonna Macabro Però non ho idea Di dove Tele Dormienti Le tele Dormienti Vabbè Qua posso stare Così Fammi capire Quando saltare Fanculo Vai subito Va bene No no Penso che Questa parte Sia assurda No Si era bloccato Il gioco Che qua Non posso Spegnerla No Ma tu guarda Dove No Ma dove siamo Perché questa Non posso Soffiarla Scusa Non le avevo Già soffiate Ah forse Perché sono Arrivato al cap Vabbè Che giri Immensi No No Gioco dell'anno Ma che meraviglia Rotula Sebastian Vodja Diceva Circondato dai burattini Per lui erano Come la sua famiglia Le sue terribili urla Solcarano la notte In cui scomparve Tra le fiamme Del suo teatro Mentre gridava Vi proibisco Di muovervi Cioè addirittura Nella morte Come andava Ancora i suoi burattini Che meraviglia Cioè abbiamo fatto il giro Veramente io questa zona qua La stavo Cercando in continuazione Guarda qua che giri assurdi E A sto punto direi Di Questa non so come mai Cioè fammela scrivere Ok allora Un attimino Direi adesso di Tornare un attimino Al salvataggio Magari provo A entrare In quella Zona Adesso che ho preso La rotula Ci vediamo lì Ah sono di nuovo qua Vediamo se Non deve esserci un senso Non è che mi devo ferire Ma è perché Qua c'è una porta Bah onestamente Non so Niente Quella stanza Non so assolutamente Come aprirla Quindi nada De nada Niente da allora Direi che ci possiamo salutare Qua adesso con questo video Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like E un commento Iscrivetevi Al mio canale Qua su youtube Se non lo avete Ancora fatto E seguitemi Sui vari social network Che troverete In descrizione Che apriranno Sempre per magia Qua sul video E noi come sempre ci vediamo Alla prossima Salutano a tutti belli Alla prossima Ciao Ciao Grazie a tutti.